Salve a tutti ragazzi eccoci qui oggi con un nuovo video Anche oggi siamo qui su Yu-Gi-Oh! solo che oggi Siamo qui con le nostre 500 gemme e andiamo a spacchettare Quindi andiamo nel negozio e iniziamo dalla prima espansione Fino ad arrivare all'ultima ma non in questo video Una per ogni video The Ultimate Racing è la prima espansione Ed è questa che oggi acquisteremo ben 10 buste Andiamo però prima a visualizzare quali sono le carte che spero che mi escano Allora, Uccello Sonico per il deck rituale o comunque per qualsiasi deck rituale che farò Curiposfera anche se uno già mi è uscito ma ne voglio un altro perché Se leggete bene l'effetto può essere usato come materiale anche dal cimitero per fare un'evocazione tramite rituale E quindi sarebbe molto utile per un deck con abbandono che ho in mente di fare Ma ci vorrà molto molto tempo Poi Predatore d'Ascia, un'altra carta molto buona 4 stelle normale, 1700 sempre per il deck rituale, quello licantropo E poi per concludere, vabbè ovviamente anche il drago occhi blu finale per il semplice fatto che è una fusione bellissima Quindi la voglio anche solo per collezione E poi Scudo a braccio magico è un'ottima carta da difesa e quindi spero che mi esca Queste qui sono per quanto riguarda le ultra rare che sono delle carte veramente difficili e rare da trovare Per quanto riguarda le super rare, le carte più interessanti sono Maschera del maledetto che blocchiamo un mostro avversario che non ci può attaccare E ogni turno subisce 500 punti di danno, molto molto utile Un'altra carta che potrebbe essere utile è Scheggia dell'Avidità Aspettiamo due turni e poi peschiamo ben due carte Però comunque non sono convinto al massimo, però potrebbe essere buona Anche rinforzi è un'ottima carta che ci potenzia più 500 punti di attacco di un mostro Ma comunque solo per il momento la potrei inserire nel deck come carta da difesa Come carte rare non mi sembra che ci sia chissà che di importante Infatti no Ah sì, questa qui sempre per il deck con i mostri normali Mandiamo un mostro al cimitero e peschiamo ben due carte Quindi su quella può essere utile E come carta normale mi serve assolutamente il terzo mago elementare per il mio deck incantatore Poi per quanto riguarda il resto delle carte A me in questo preciso istante non interessa assolutamente niente Quindi la maggior parte delle carte che ci servono sono ultra rare Sono complicate da trovare Infatti io di questo pacchetto non ne ho mai prese Ne ho prese solo alcune E mi sono uscite Curibosfera Cancello della fusione E disturbo magico come carte così Avrò comprato una ventina di pacchetti Quindi sono stato molto fortunato E quindi ho fatto reset scatola Perché potete resettare la scatola Cosicché torna con tutte le carte al massimo Perché le ultra rare ne potete trovare una sola in tutto il pacco Super rare solo in due per E poi dalle rare in giù quante cacchio ne volete Andiamo ad acquistare quindi queste 10 buste Tutte insieme Quindi acquista le 10 usando usando 500 gemme Uguale ci restano 10 gemme Acquistiamo Perfetto Iniziamo con lo spacchettamento Allora vedete questi Curibbi che escono? Bene Più ne escono più probabilità ci sono che nella busta ci sia qualcosa di importante Quindi in questa busta non dovrebbe esserci niente di importante Ok c'è uscita questa carta che non tenevo Non è una carta che utilizzerò Quindi va bene così Un solo Curibbo Non c'è nessuna animazione particolare Quindi anche questa non sarà una carta chissà quanto importante Ok Perfetto Invece è importantissima per noi perché mango elementare ci serviva Quindi posso metterlo nel deck Un'altra carta che non avevo Ed è sempre incantatore Scopri prendi il controllo di un mostro acqua sul terreno dell'avversario Fino a quando questa è stata scoperta sul terreno Bene Non mi interessano perché Quando sono troppo specifici su certi tributi Potrebbero risultare inutili Vedete questi geroglifici che sono dietro la busta? Vuol dire che la busta potrebbe contenere Almeno una super rara O comunque una carta importante Vediamo un po' La prima non ci serve Questa non ci serve E questa neanche ci serve E comunque le tenevamo già tutte Però quelle scritte erano uscite Quindi chissà perché Qui neanche c'è niente di particolare Allora Questa carta è abbastanza buona per un deck Dove infliggiamo solo danni Maschera Questa qui è quella che blocca una carta magia E infatti non ci interessa Ok Passiamo ancora Io già ho perso il conto di quante buste stiamo Ve lo dico tranquillamente Gabbia rituale è abbastanza buona ma non la utilizzo Questa qua è una carta per evocare tramite rituale Balena fortezza Neanche utilizziamo Metti in posizione di difesa tutti i mostri scoperti sul terreno Questa non sarebbe male Perché c'è una carta che poi dice Distruggi tutti i mostri in posizione di difesa Se non sbaglio Quindi potrebbe essere una bella combo Ok Questa animazione mi piace Vuol dire che qualcosa di buono uscirà da questo pacchettino Ok Queste non ci interessano E' una semplice rara Che però non avevamo Quindi ok Non so bene come funzionino queste animazioni Però fino ad adesso ogni volta che facevano animazioni strane Poi mi sono uscite Ecco Ad esempio Quando mostra il volto così del personaggio Ha sempre fatto uscire carte buone Allora Manda una carta alla mano al cimentero Cambia la posizione di tutti i mostri controlli del tuo avversario I mostri coperti in posizione di difesa Vengono scoperti in posizione di attacco Ok non male Balena fortezza Che la possiamo evocare E no E' semplicemente una rara Un libro incantatore Equipaggio con questa nuova aumenta Attacco e difesa di 300 punti Quindi un mostro di tipo incantatore Ma noi abbiamo carte equipaggiamento Molto migliori Bene Questa animazione Dovrebbe essere la massima anima Scusatemi Animazione dei Curibo In più ci sta questa animazione Speriamo Ehi c'è di tutto Cioè in questa qui dobbiamo Non so che cazzo dobbiamo trovare Poi vedete che alla fine non ci da niente E invece ci ha dato una semplice super rara Cioè ha fatto tutte queste animazioni Poi ci ha dato semplicemente Quando questa carta viene evocata In un'evocazione normale Dichiaro un tipo di mostro Quando combatto con quel tipo di mostro Mette attacco di questa carta Di 1000 punti Solamente durante il calcolo dei danni Quindi tutto il blocco diventa un 2000 Bene Non ci interessi assolutamente Perché poi per il resto del turno Sei un 1000 Che viene buttato giù Come l'acqua fresca Ok Ok Ah ok Dono Dell'elefante bianco Questa qui è una carta Che ci poteva interessare Allora già sono contento Per il semplice mago Che dovevo mettere nel deck Quindi va bene così Ma almeno un'ultra rara Su 10 bustine Spererei di trovarla Allora Scegli una carta Con attacco di mille o inferiore Tutto terreno Durante questo turno Il mostro certo Può attaccare direttamente L'esponso del tuo avversario Passaggio segreto Per il tesoro Non è male Non è male Lo dobbiamo dire Tribù Orecchiette da gatto Durante il mille step Del turno L'attacco Il genere di queste mostre Combattere un mostro Diventa di 200 punti Va bene Ok Comunque non è niente Di particolare Perfetto Bustine Finite Abbiamo ottenuto Solo Una super rara Cosa strana Davvero Su 10 buste Solo una super rara Tantissime Appunto Rare Comuni Tra cui L'unica carta Che davvero Mi serviva tantissimo È questa qui Quindi già Sono fortunato Che è uscita Se no Di tutto il resto Non mi serviva Assolutamente niente Per quanto riguarda Questa qui Forse Ma quante ne avevo Ah ne avevo una Con questa Sono due Io giusto due Ne avrei volute Mettere nel deck Quindi Va bene così Davvero Non ci lamentiamo Anche se Anche se Poteva essere Uno spacchettamento Molto Molto Anzi Di gran lunga Migliore Quindi Come primo spacchettamento Non ci lamentiamo Comunque Aspettate Che Riarrivo Alle 500 gemme Per fare la seconda Poi la terza E poi la quarta Espansione E così via Quindi ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Lasciate un like Io come al solito Vi ringrazio Mi raccomando Iscrivetevi E commentate E noi ci vediamo Con il prossimo video Bella raga Grazie a tutti